Sentiamo il dovere di fare un appello a tutte le forze politiche in questo momento molto grave, in cui abbiamo capito che il triunvirato Renzi, Boschi e Orlando vogliono far approvare il decreto Cerinna, di unirsi tutti, indipendentemente dai partiti, per contrastarlo in tutti i modi. Questa è una battaglia importantissima che va nel segno della nostra tradizione e della tutela dei minori e della famiglia.